Un doveroso riconoscimento a chi, in mezzo secolo, ha onorato la professione forense. È la finalità della toga d'oro il riconoscimento che ogni anno il Consiglio degli Avvocati di Foggia, come nel resto d'Italia, assegna i legali che hanno raggiunto i 50 anni di attività. La cerimonia si è svolta nell'Aula di Corte d'Assise, alla presenza tra gli altri del Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini. La nostra professione non finisce mai, perché se uno ha vestito la toga per 50 anni vuol dire che come minimo è sui 70-75 e molti dei nostri festeggiati continuano a lavorare. È un doveroso maggio ed è una festa dell'Avvocatura e del Tribunale di Foggia. La professione forense fa i conti con tante criticità. I numeri degli Avvocati sono eccessivi. La situazione oggi è critica anche sotto il profilo della possibilità di riuscire ad ottenere il giusto compenso per il lavoro prestato. Ci sono delle indagini che dicono questo attraverso un'indagine del Censis. Dieci gli Avvocati che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento. Dovesse dare un consiglio a un giovane Avvocato che si affaccia a questa professione, per prima cosa cosa gli direbbe? Di amare la toga, di rispettarla e di impegnarsi alla ricerca della verità, perché l'Avvocato deve essere luce per i giudici.